Siamo nella domenica del buon pastore o bel pastore e ritroviamo il nostro pastore, colui che ci guida in questa liturgia, padre Ernesto della Corte, il nostro amico biblista. Ben trovato, buona Pasqua della settimana. Buona Pasqua della settimana a voi, io ringrazio queste tue parole carissima Anna Maria, ma vorrei ricordare a me, perché io oggi ricordo la mia ordinazione proprio nel giorno della domenica del bel pastore, che il pastore è solo uno, noi siamo resi partecipi per grazia, quindi per dono di questo grande dono. Veramente oggi quel bel pastore, o calospo i men, quant'è bella questa espressione, noi che domenica scorsa tu dicevi siamo nel tempo pasquale, abbiamo una gioia particolare. Oggi la gioia Anna Maria, cari amiche e cari amici, è ancora più grande, perché colui che abbiamo visto sulla croce come l'agnello sgozzato, come dice l'Apocalisse, che ha dato la vita, lui in realtà con la resurrezione è diventato l'unico vero pastore. Anzi, l'Apostolo Pietro nella sua prima lettera lo chiama il pastore dei pastori, perché è lui che fa la mediazione tra il Padre e tutti quanti noi. Noi siamo, come Luca definisce la Chiesa, il piccolo greggio, noi siamo davvero guidati esclusivamente da lui. Noi ci troviamo oggi nel testo del capitolo 10, stiamo tornando indietro nel testo, perché Gesù è nel Tempio a Gerusalemme. C'è una festa particolare che gli ebrei chiamano la festa di Annukah o della dedicazione, perché è la festa che prosegue dopo, sei mesi dopo quella delle capanne. Gli ebrei che cosa fanno in questa festa? Ricordano la risentificazione del Tempio. Antioco IV Epifane lo aveva profanato e allora era opportuno dedicare di nuovo un altare grezzo, ridedicare il Tempio al culto. E nel Tempio Gesù aveva già fatto all'inizio del suo ministero un gesto fondamentale, l'abbiamo anche qualche volta già commentato, la famosa purificazione, gesto profetico ma non violento, di cacciare i venditori e gli animali destinati al sacrificio. Un gesto che il nostro padre Pio pure ha fatto a San Giovanni d'Otondo, un gesto che vuole ricordare che il Tempio è casa di preghiera. Allora i giudei gli chiesono, ma tu con quale autorità fai queste cose? E ancora oggi, vedete, nel testo di Giovanni X, ancora i capi dei giudei gli chiedono, tu fino a quando ci tieni sospeso? Perché non ci riveli se sei veramente il Messia, il Cristo? Diccelo apertamente. Gesù risponde mettendo in evidenza la difficoltà di rivelare la sua identità a chi non crede. Ecco, chi non ha fede, chi non ha un rapporto forte con lui, non potrà nemmeno percepire l'identità di Gesù. Chi vuole davvero scrutare in Gesù le azioni di Dio deve aderire a lui. Ecco la centralità di Cristo di cui parlavamo domenica scorsa, nella domenica della pesca miracolosa in Luca 5 e Giovanni 21 che abbiamo letto. Ancora una volta emerge la figura di Gesù come il pastore. Lui è veramente il pastore di tutti i credenti, che egli chiama pecole. Perché le chiama così? Perché c'è un legame enorme tra Gesù pastore, il bel pastore e i credenti. Lo dice con chiarezza proprio Gesù nelle sue parole. Chi appartiene a lui, chi è in comunione con lui, ascolta la sua parola, riconosce la sua voce, si affida a lui, segue con fiducia e con sicurezza. Direi che l'appartenenza alla Chiesa vede due grandi acquisizioni. Noi dobbiamo vivere in un continuo ascolto del Cristo pastore dei pastori. E' una sequela continua. Cioè noi siamo coinvolti nella vita di Gesù. Far parte della comunità di Gesù significa essere coinvolti nella sua vita. Perché solo attraverso un ascolto obbediente, una sequela perseverante, noi possiamo arrivare ad avere una comunione di vita che sia profonda, duratura, progressiva. E' questo che ci fa cristiani. Non gli atti di culto. Sembra quasi di ricordare il Salmo 51, il Salmo 50, quando proprio Dio dice ma che me ne faccio io dei tori? Forse che io bevo il sangue dei capri o vengo a prendermi gli agnelli dei vostri recinti. Io voglio un sacrificio di lode. E Davide quel sacrificio di lode lo farà confessando il proprio peccato. Contro te io so peccato. Solo contro di te io ho peccato. Riconoscere che abbiamo bisogno di Cristo. E Gesù nei nostri confronti è il pastore che conosce tutto il grece, ma anche le pecore ad una ad una. Infatti all'inizio del capitolo 10 dice che le chiama per nome, che le precede verso quei pascoli abbondanti, che sono le scritture. Sembra di rivedere Emmaus. Non solo, ma Gesù per queste pecore, quindi per noi, dà la vita. E la dà totalmente, la dà fino all'estremo. Perché ci dà la vita? Per darci quella vita che noi chiamiamo eterna, cioè vita definitiva. E c'è un'immagine molto bella, l'immagine della mano. Gesù dice che ci tiene nella sua mano. E da questa mano lui ci porta nella mano del padre. Lui ha promesso al padre di non perderne nemmeno una. Noi siamo nella mano di Gesù Cristo, il grande pastore, il risorto, colui che vive continuamente in mezzo a noi. Bellissima questa immagine. Siamo nella mano del Cristo. Vuol dire questa fiducia enorme. E allora l'esercizio pastorale, dobbiamo notarlo bene, avviene quando? Quando viviamo nella relazione del pastore con l'intero greggio. I pastori della Chiesa, quindi è un monito per me, che sono anche un pastore nella Chiesa, è questo monito. Una relazione, il ministero va vissuto quotidianamente, in una relazione quotidiana, stando in mezzo alla comunità, così come il risorto sta in mezzo alla comunità. Se non si vive con Cristo, in un rapporto con Cristo e con lo stile di Cristo, i pastori della Chiesa corrono un grosso rischio. Quello di diventare dei funzionari, dei carrieristi, dei burocrati, degli esecutori di rite, ma non sono veri pastori nel pastore. Purtroppo capita sempre di più nella Chiesa. Poi le povere pecore, cioè i credenti, si sentono organizzati in greggio. Spesso nelle nostre comunità le persone vengono impegnate in svariati servizi, diventano dei militanti, soffrono di una mancanza di rapporto, di comunicazione con il pastore. A volte i vescovi, i sacerdoti sono dei burocrati, non offrono più la parola di Dio, non santificano con la celebrazione dei sacramenti, non sono la presenza di questa luce. Grazie a Dio ne abbiamo un Papa che davvero è il grande pastore che ci conduce all'unico pastore che è Gesù Cristo e che ci ricorda di dover avere una relazione autentica. Quando c'è una relazione autentica, quando c'è una presenza, quando c'è un ascolto, una comunicazione, c'è amore, c'è cura, c'è dedizione per l'altro, fino al dono della vita. Sono questi oggi gli atteggiamenti che soprattutto il testo consegna a noi che siamo stati chiamati a questo servizio. Dobbiamo vivere così, l'universo e gli altri. Siamo tutti pastori della nostra animalità, ma siamo pastori dei fratelli, accompagnandoli, non in una vuota burocrazia con un impegno da funzionari, ma in quella meravigliosa luce della testimonianza. E se il pastore ha con le pecore la relazione che ci insegna, come la chiamano la lettera degli ebrei, il pastore grande delle pecore, un'altra bella espressione per definire Gesù, pastore dei pastori, dice Pietro, e la lettera degli ebrei, pastore grande delle pecore, allora ogni pastore, se vive questo stile, sarà capace, in Gesù Cristo, l'unico pastore, di aprire il rapporto con il Padre e di essere davvero a immagine di Gesù, il bel pastore. Perché Gesù tiene nella sua mano le pecore. E potremmo fare quasi nostro quel grido meraviglioso dell'inno all'amore in Romani 8, 835, quando Paolo esplode alla fine di quella sezione e dice ma chi ci potrà separare dall'amore di Cristo? Chi può toglierci da quella mano? Ecco, servono nella Chiesa pastori, bescovi, presbiteri, diaconi, ministri del Vangelo, che ci aiutino ad essere consapevoli, a farci prendere coscienza che siamo custoditi nella mano del risotto. Perché Gesù ci vuole collocare poi nella mano del Padre da cui nulla e nessuna realtà potrà mai stepparci perché saremo per sempre in quella vita definitiva. Quanto è importante questa comunicazione e questo servizio, direi, di testimonianza e di pastoralità che il Signore ci dia pastori santi ma anche dotte perché come diceva Santa Teresa Davida l'ignoranza è un grande peccato. Abbiamo bisogno anche di pastori dotte che siano dotte nella parola di Dio, dotte nelle celebrazioni e che siano davvero saggi nel guidare il popolo di Dio in quella mano del risotto che lentamente ci porta nella mano del Padre. bellissima anche questa nostra giornata insieme oggi. Padre Ernesto la cosa che ci sorprende è che questo pastore non è come tutti gli altri ha una relazione di affetto speciale con le sue pecorelle noi dobbiamo imparare e ascoltare e seguire Gesù. Solo in Lui possiamo imparare vedi Lui è venuto per questo Lui è l'immagine perfetta del Padre Lui ci insegna la somiglianza anche che noi dobbiamo costruire e questo è un grande aiuto che ci ha dato il Padre in Cristo ognuno di noi si umanizza diventa il pastore della propria animalità collabora davvero corresponsabile anzi ancora dire ancora meglio corresponsabile dell'accompagnamento dei fratelli perché questo popolo sia davvero il popolo di Dio che loda testimonia già qui nella storia che la fede cristiana è una fede che ci umanizza che davvero ci fa arrivare alla pienezza di quello che noi nel progetto del Padre Dio ha voluto costituirci quindi è davvero un grande aiuto e visto che siamo anche nel mese in cui ricordiamo Maria chiediamo a lei che è la madre del grande pastore di aiutarci davvero e di pregare per tutti i pastori della Chiesa perché siano miti e umili di cuore come Gesù perché davvero abbiano a cuore la sorte di tutti i fratelli e sorelle auguri anche ovviamente a tutti i pastori ci associamo ai tuoi auguri e anche a tutte le mamme oggi è la festa delle mamme quindi forse dobbiamo dire che anche le mamme sono dei pastori meravigliosi e chi di noi non ricorda le proprie mamme le proprie nonne un augurio particolare a loro che veramente l'augurio che vorrei fare a loro è avete tagliato la prima volta il cordone umbilicale per farci nascere ce n'è un secondo che è ancora più importante non siate mai in fusione con i vostri figli ma rispettate l'identità e aiutateli a costruirsi una identità forte serena e tranquilla il servizio di maternità più forte e forse più difficile tu sei mamma e due figli maschi anche grandi sai quanto sia deleteria la fusione la fusione tra uomo e donna la fusione tra padre madre e figli dobbiamo rispettare l'identità e stimare l'identità dell'altro perché amare significa davvero lasciare che l'altro faccia il suo cammino e noi dobbiamo ritirarci perché questo è l'amore più grande lasciare che l'altro cammini non più con il nostro aiuto ma con la nostra preghiera con il nostro esempio e con quegli occhi che guardano contemplando la bellezza di un figlio che è nato cresciuto e che ora ha una sua identità questo è l'amore più grande di quello che sa perdere grazie per questo bellissimo augurio padre Ernesto al nome anche di tutte le altre mamme che ci seguono e auguri a te noi ci ritroviamo la prossima settimana grazie a voi davvero di cuore ci troveremo con la quinta domenica di Pasqua shalom e buona Pasqua della settimana shalom e buona Pasqua e buona Pasqua e buona Pasqua e buona Pasqua